Anzi, oro bianco parro e Newstar GM. Alla chiusura delle ali, Cellotta, diversi concorrenti su di una linea, lungo la corda Nandoverro M, più a largo Match Point Tans, Olgiata Guasimo in quarta ruota Osiridea R, il galoppo di Olgiata Guasimo. Parte bene dalle retrovie Newstar GM. 200 in quindici e mezzo, Nandoverro M ha respinto Osiridea R, che cerca di ritrarsi in terza posizione, glielo impedisce per un attimo Newstar GM, che poi gli concede la posizione. 30 il quarto iniziale, a buona andatura Nandoverro, seguito da vicino da Match Point Tans e Osiridea R. Costretta a largo, Normalo, 45 e mezzo e 600, andatura sostenuta nella prima parte di gara. Anche al passaggio davanti alle tribune non prende mai in mano il leader, che percorre il giro di pista in 1 e 2 scarsi. Match Point Tans lo segue da vicino, poi Osiridea R affiancata da Normalo, rindi Newstar GM. Dalle retrovie si fa vedere Leda. chilometro in 1.18.5, retta delle scuderie, allunga Nandoverro, stenta a tenere la posizione Match Point, poi Osiridea R, si prepara Newstar GM in terza ruota. 1.33.5, tre quarti di miglia, in fuga il leader, si ingamba Newstar GM, va a caccia di Nandover. Nandover ha circa 10 metri di vantaggio sull'avversaria. Battute conclusive, Nandover è la volta buona per Landoverol, che va a concludere. Mentre Newstar GM precede Larsen B, 1.11.7, è l'arrivo probabile ed ufficioso della quarta corsa dal Cirigliano. Da un capo all'altro, Nandoverro M, da Nandoverolle e Romantic Victory, grande genealogia la sua. Media di 1.17.2, il training di Michele Annunziata. Insalchi Fabio Esposi, dietro le quinte Filippo Gallo. . . . Grazie a tutti.